pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati in questa ventiseiesima domenica incontriamo il testo di matteo 21 28 32 la parabola del padre che invia i due figli a lavorare nel suo campo che è un duro attacco una forma di formalismo di finzione che impedisce una reale conversione intitoliamo infatti questa nostra riflessione finzione o reale conversione vediamo un po i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo quindi potremmo dire i detentori del potere religioso e anche in parte civile del tempo mettono in discussione l'operato di gesù chiedendogli con quale autorità si permetta di compiere certi gesti per ultimo abbiamo avuto gesù che nel tempio ribalta i tavoli dei cambiavalute dei venditori gesù coglie in loro una doppiezza e una indisponibilità alla conversione per cui non risponde direttamente ma racconta la parabola del vangelo di oggi abbiamo un padre immagine di dio che manda i suoi due figli a lavorare nella sua vigna il primo figlio dice sì papà ci andrò ma alla fine non ci va il secondo figlio all'inizio oppone un rifiuto ma poi si pente cambia e va a lavorare nella vigna da qui la domanda di gesù chi dei due ha fatto la volontà di suo padre tutti rispondono il secondo e gesù lapidariamente conclude bene le prostitute pubblicani vi passano davanti perché loro alla predicazione del battista si convertirono voi che vi ritenete giusti no cerchiamo di capire il figlio che dice sì e fa no rappresenta coloro che conoscevano dio e seguivano la sua legge o almeno dicevano e pensavano di farlo ma poi all'atto pratico quando si è trattato di accogliere cristo di mettersi realmente profondamente in discussione si sono tirati indietro il figlio che dice no e poi fa sì rappresenta invece coloro che un tempo vivevano fuori dall'alleanza con dio che erano sbarriti ma poi davanti all'annuncio di gesù si sono ravveduti e hanno accolto il vangelo potremmo ancora dire che nel primo figlio che dice non fa gesù rappresenta tutti coloro che a suo tempo e in ogni tempo si nutrono di buone maniere di vuote parole il loro perbenismo riempie di soddisfazione la loro vita magari li mette anche in mostra agli occhi degli altri ma in realtà sono vuoti nell'interiorità cercano di compiacere a parole dimostrarsi per ciò che realmente non sono e non vogliono essere nell'altro figlio invece noi possiamo vedere la categoria di molti ribelli peccatori indisciplinati di tanti che hanno vissuto una vita lontani da dio lontani dalla verità dispersi nell'amore disordinato ma poi hanno fatto esperienza di dio si sono ravveduti si sono pentiti hanno iniziato un reale cammino di conversione ecco la domanda dunque di gesù chi dei due ha compiuto la volontà del padre quello che si è fermato alle parole o chi è passato dalle parole ai fatti ecco potremmo dire dunque che per dio ciò che conta non sono i pi desideri e le vuote parole ma i fatti cioè che quei desideri e quei propositi diventino almeno in minima parte azioni concrete come diceva sant'ignazio d'altronde l'amore non si nutre di sole parole attenzione però non assolutizzare questo principio perché perché una delle critiche che vengono rivolte ai cristiani praticanti è quella che poi vanno in chiesa e fanno del male fuori ora se è vero che spesso ciò accade e si può solo fare un mea culpa se è vero che tante persone hanno ridotto il cristianesimo a una religione fatta di vuoti riti che non cambia non si incarna nelle scelte di vita è altresì vero che chi va in chiesa non è l'elite dei perfetti ma la comunità dei perdonati che attingono all'amore e la misericordia di dio per cercare di migliorare di crescere di amare un po di più proviamo ad andare ancora però in più in profondità e cogliere altri aspetti il figlio maggiore alla fine cerca soltanto come abbiamo detto di compiacere il padre ma in realtà il suo cuore è ben lontano dal padre che potremmo dire vede come un padrone la cui volontà è un peso dalla quale è meglio tenersi lontani però ciò che conta è compiacerlo pensando che al padre basti questo ecco tante volte questo può toccare anche la nostra vita e anche il nostro rapporto con dio cioè fermarci alle parole magari gli si rivolgono anche belle parole ma manca la disponibilità ad ascoltare la sua parola a lasciarci mettere in discussione a incarnare il vangelo a vivere i sentimenti di gesù però si è tranquilli a posto perché si fa la preghiera si lancia il bacetto al tabernacolo si fa la processione e ci si sente brave persone buoni credenti quindi fare attenzione perché con dio non funziona in questo modo dio guarda il nostro cuore soprattutto dio non è un padrone la cui volontà è un peso insopprimibile ma è un padre che ci regala la vera libertà la sua volontà coincide con il nostro vero bene con la nostra vera felicità quante volte anche nei rapporti interpersonali ciò che conta è compiacere l'altro ecco pensate a un figlio che vive per compiacere i genitori vivrà un dissidio dentro di sé perché da una parte si sente nel dovere di compiacere il padre la madre di doverli assecondare in tutto dall'altra parte però sento una rabbia profonda perché perché non è la verità perché magari ciò che vogliono i genitori non è ciò che lui sente perché magari avverte che nel profondo è disordinato questo modo di fare vive una lotta da una parte volerli compiacere dall'altra il disprezzo segreto che ne cova quante persone che davanti al parroco si mostrano in un certo modo tutte pie e con tante parole belle sulla bocca ma poi sono tutt'altro sono distruttori di comunità quindi fare attenzione a una modalità formalista perbenista compiacente che non funziona né nei confronti di dio e né tantomeno nei confronti degli altri tu infatti così facendo non stai volendo davvero bene all'altro ma stai curando la tua immagine davanti all'altro sei ancora inchiodato nella ricerca di te stesso non sei ancora entrato nella logica dell'amore il figlio minore invece abbiamo visto che parte dal no che poi però diventa sì ecco dicevamo che può rappresentare chi prima era fuori dalla volontà di dio chi prima era disperso gesù infatti parla di prostitute pubblicani che erano le due categorie di peccatori più visibili quindi parla di persone che partono dal no ma poi si pentono e aderiscono realmente concretamente al signore vedete qui c'è un altro punto molto importante perché perché a volte sembra quasi suggerirci gesù bisogna ammettere che è più facile che inizi un cammino di reale conversione una persona che è stata palesemente lontana da dio piuttosto che una persona che si ritiene in cammino e che ha ridotto il suo percorso di fede a un vuoto formalismo cioè che è rimasta in superficie e non ha reale contatto con la sua interiorità e quindi qui c'è un monito per tutti soprattutto perché in cammino da più tempo e chiederci ma la parola del signore mi mette realmente in discussione ascolto veramente ho contatto con me stesso mi ritaglio ogni giorno un po di tempo per meditare la parola per rivedere la mia coscienza e infine permettetemi un terzo e passaggio che può aiutarci per il cammino di conversione il figlio minore abbiamo visto che parte da un no che poi diventa sì potremmo dire che questo figlio che cosa fa non assolutizza il suo no cioè si sa mettere in discussione arriva il momento in cui inizia un reale cambiamento qui c'è un punto molto serio vedete questa dinamica noi la possiamo vivere nelle piccole scelte di ogni giorno cioè davanti al bene che sono chiamato a compiere davanti magari anche una semplice richiesta di una persona di aiuto davanti al dover compiere il mio dovere di nel lavoro nello studio davanti a una possibile chiamata di dio io inizialmente posso porre un no cioè istintivamente mi viene da autoconservarmi e da scegliere qualcosa che a livello superficiale emotivo mi compiace di più mi dà più piacere però che succede che questo figlio mette in discussione il suo no e lo trasforma in un sì quindi io lì per lì posso essere tentato di opporre un rifiuto di dire no ma se io rielaboro quel no quindi non lo assolutizzo mi fermo prima di partire in quarta penso ma questa cosa è buona oppure no questa cosa che mi è chiesta è giusta questa cosa che mi è chiesta mi aiuta a donarmi di più ad amare di più il signore il mio prossimo ecco che io posso rielaborare quel no e farlo diventare un sì e in questo senso ho fatto la volontà di dio infatti è molto bella la domanda di gesù ma chi dei due figli ha fatto la volontà del padre il secondo gesù non aggiunge è però avrebbe dovuto dire sì da subito però all'inizio ha posto rifiuto no no gesù dice lui ha fatto la volontà del padre cioè in modo concreto con i fatti ha superato se stesso ha vinto il suo rifiuto ha detto di sì qui c'è qualcosa di prezioso perché tante volte le persone si sentono in colpa perché all'inizio una cosa magari gli veniva pesante non l'avrebbero voluta fare però poi l'hanno fatta e magari si confessano lo stesso sentendosi in colpa anziché gioire del fatto che grazie a dio si sono vinti e hanno fatto quel che dio voleva da loro poi con il cammino pregando con l'aiuto del signore la grazia del suo spirito il bene ci verrà sempre più spontaneo se ci esercitiamo a farlo ma in alcuni casi fare il bene costa costa sacrificio istintivamente ci verrebbe più facile scegliere il male o quantomeno l'autoconservazione questo testo ci dice l'importanza anche nelle piccole scelte di saperci mettere in discussione saperci dire di no quando quella repulsione istintiva ci porta lontano dal dono di noi stessi e allora dicendo di sì al vero bene alla volontà di dio ecco che sgorga la vera gioia ecco che dio si compiace ecco che il nostro cuore esulta che il signore dunque ci aiuti a non vivere di finzione ma a vivere tutti un reale cammino di conversione che il buon dio vi benedica tutti pace e bene